Ciao a tutti amici, oggi e stasera cucina molto ricercata, cucineremo questi cup noodles giapponesi, cinesi, insomma da quelle parti là. Come si fa a farli? Facilissimo, si aprono, si fa bollire dell'acqua bollente, si apre qui la linguetta, si inserisce dell'acqua bollente, l'acqua bollente, fino alla riga contrassegnata, ok, adesso si chiude, si lascia riposare per 3 minuti, lo metteremo nell'abbattitore. Ne ho un altro, andiamo anche per ciuschi, che pastrocchi. Ok. Lasciamo riposare qui per 3 minuti e basta. Ritorneremo dopo per l'assaggio. Ok, passiamo all'unboxing, assaggio di questi cup noodles cinesi, con i gamberetti. Ovviamente bisogna mangiarle così come fanno i giapponesi. abbastanza comodi per andare in campeggio. Deve mettersi solo l'acqua calda, i bastoncini prendi due rami secchi, a posto. un po' di sake. Un po' di sake. Un po' di sake. di sake. Così qui costano un dollaro. C'era il pacco da 6 per, mi pare, un dollaro e 99. c'è questo qui non ha niente a che di invidiare con i rigatoni alla matriciana allora per metti dolci a tutti